Per ripristinare la password di accesso a WordPress mediante email, devi accedere all'interfaccia login di WordPress. Quindi, nella barra degli indirizzi del tuo browser, digita www.tuodominio.estensione.wp-login.php oppure www.tuodominio.estensione.wp-admin. Clicca su Password dimenticata. Nel campo apposito, inserisci l'indirizzo email di riferimento dell'utente WordPress. Clicca su Ottieni una nuova password. A questo punto, il sistema invia, presso la casella di posta indicata, un email contenente il link per effettuare il reset password. Acciadi alla tua email attraverso il client di posta utilizzato, oppure mediante il pannello webmail.aruba.it. Apri l'email con oggetto Reimpostazione Password e clicca sul link presente al suo interno. Si apre la seguente pagina. Ti verrà generata automaticamente una password con caratteri alfanumerici. Se lo preferisci, puoi personalizzare la password, cercando sempre di renderla quanto più difficile possibile e rispettando i requisiti indicati. Per confermare, clicca su Salva Password. La password è stata reimpostata con successo. A questo punto puoi accedere al tuo WordPress utilizzando la nuova password.